Considera come se fosse una cosa presa un po' dall'alto, così, allora mettete qua davanti se la voglio fare. Va lì, va bene. Questo qua gli stiamo arrivati. Silenzio! No, stiamo pieno alla massura. per favore Milites, signa in ferte, progredite Fer, tiè, del clima Ascuda, avvertite Grazie 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 Milites Che c'è là? C'è qua C'è una stringa Vai Milites Rompere ordine Liberi Basta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.